Ehi ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in quello che è il finale di Yo-Kai Watch 4 Siamo giunti all'ultima sfida della modalità storia, dobbiamo tornare intanto a Yo-Kai World Per vedere se tutto quanto è a posto, se tutto quanto è a norma, come deve essere Il drift qui è prepotentissimo Io so per certo che vuoto scuro non è minimamente sconfitto C'è sempre comunque una fase 2 nei giochi di Yo-Kai Watch Quindi vuoto scuro non è sconfitto neanche per sbaglio E infatti senti che disordine E cos'era quel rumore assordante? Oh mio Dio Ma se ne è mangiati? Non ci sono, non è che non lo vediamo Eccolo, è cattivissimo lui Credevate davvero di essere riuscito a sconfiggermi? E un pochino ci credevo Ovviamente lui non può prendere Shuka perché è la principessa Bene principessa Shuka È tempo di mettere in scena la vera sfida finale Perché quella di prima non andava bene Dato che ha perso ha detto ok mettiamo in scena quella vera Questa era una prova Way to go Ah però ci ha portato nel mondo normale più o meno Ora che siamo di nuovo qui dovremmo tornare ad occuparci del virus Mi chiedo perché Erma non sia stato teletrasportato insieme a noi Dobbiamo pensare ad altro ora Avverto un'ora molto forte qui intorno Anche percepisco qualcosa Sembra provenire del monte selvo scura Ma Whisper è un radar Dovrebbe capirlo molto meglio di Cole Ah sulla cima dobbiamo andare? Che bello Spero che non sia semplicemente lì vicino all'albero sacro Ha intenzione di farci ricordare qualcos'altro Il sole è nero Bene è giunto il momento di chiudere la questione una volta per tutte Uh con Kyra Bene Certo sarebbe bello poterlo utilizzare Kyra Ma non si può Perché? Eh Allora io potrei Posso teletrasportarmi? Ed è quello che voglio fare Sono sicuro di volermi teletrasportare? No non voglio affrontare nessuno Sono pigro Non puoi teletrasportarti con Traspec Ma allora non farmelo selezionare no? Ah Che poi nello scorso video uno mi ha scritto sei over levelato Non è vero? Sono un livello normalissimo Anzi dovrei essere ad un livello più alto Per essere over levelato devo tipo stare al 60 Più o meno Per essere davvero over levelato È vero che Joycon un po' drifta Ma non mi dà problemi Più che altro va in avanti Ma non è un gran problema Per fortuna poi è il Joycon e non il Pro Controller Se no mi incazzavo davvero E ovviamente Non è in cima al monte Ma è qui ad aspettarci Un altro cancello scuro Eh lo so Cole Anche a me dà un po' fastidio Si intravede qualcosa È il momento della battaglia finale Vuoi affrontare vuoto scuro Certo Wow il potere di Shuka è enorme Dobbiamo farlo uscire dalla slot Kai E se non mi incazzavo E se non mi incazzavo E' un po' di chiudere. Grazie a tutti 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 Buonanotte amico mio Grazie a tutti 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 Un po' Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti Jack in Grazie a tutti Grazie a tutti Non urli Grazie a tutti Ah però Io andrei con Grazie a tutti 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 Grazie a tutti